Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale Allora, oggi vi parlo di un accessorio per il beauty per quanto riguarda più che altro la skin care che vi ho mostrato appunto in un mio video in cui vi mostravo come mi strucco, che prodotti utilizzo cosa faccio per, diciamo, colare la pelle del mio viso Il prodotto in questione è il Clarisonic o comunque quello che ho utilizzato io nel mio video è il mio face cleansing di Imetec bellissima Allora, ovviamente il principale, quello proprio originale è il Clarisonic e io vi mostro questo, che è il mio 2 ed è di mia sorella mentre io ho acquistato già ormai tre anni fa questo qui che è della Imetec Allora ragazzi, io ho avuto modo di provarli appunto entrambi mia sorella ce l'ha da molto meno tempo di me mi sembra addirittura meno di un anno vi posso dire, innanzitutto parlando dell'estetica che sono entrambi più o meno della stessa grandezza se vogliamo proprio andare nello specifico il face cleansing, questo qui, il mio è leggermente più lungo sono maneggevoli entrambi forse quello della Imetec è leggermente più maneggevole perché ha la bombatura all'inizio e alla fine ma al centro è leggermente più affusolato quindi la presa è migliore ma comunque ragazzi, queste sono piccolezze mentre questo è tutto uguale insomma, non è affusolato al centro però comunque è maneggevolissimo anche questo l'accensione del mia l'abbiamo nella parte interna l'accensione di questo all'esterno quindi sul dorso questo qui ha un'autonomia praticamente calcola da solo il tempo che impiegate per pulire il vostro viso e quindi si blocca fa un suono tipo ogni volta che dovete cambiare posto le guance poi fa un suono dovete andare sul mento e così via mentre questo lo spegnete quando lo volete spegnere lo spegnete cioè si consiglia di utilizzarlo comunque pochi minuti però siete libere di utilizzarlo come volete allora ragazzi che vi posso dire vi parlo in particolare del mio perché comunque lo uso da tre anni più o meno e quindi ve ne posso parlare sicuramente più nello specifico allora vi dico innanzitutto il prezzo questo sta sui 40 euro più o meno ora non so dove abitate voi quanto può costare comunque il prezzo è questo che è a quello di Clarisonic perché questo qui sta al triplo insomma cioè tipo 150 euro se non sbaglio o giù di lì e tornando a parlare dell'estetica una cosa che ho trovato in più in questo qui di la Imete che è meno questo qui della Clarisonic è il fatto che questo abbia poggia accessorio quindi lo possiamo tenere in piedi non ci dà fastidio questa cosa la trovo utilissima proprio perché in questo qui non c'è quindi questa la trovo una grande pecca secondo me non so se poi lo vendono a parte non lo so però comunque mi sembra uno svantaggio perché comunque questo lo dovete tenere così poggiato steso e non mi piace questa cosa quindi ho trovato migliore questo che questo sotto questo punto di vista poi questo 150 euro vi vado a dire le pecchie che ho trovato cioè parliamo di un oggetto che innanzitutto si è cancellato subito si è cancellato il disegno cioè c'erano le scritte così in dorato qui ci stanno fisse non si sono mosse proprio quasi sono tolte praticamente subito poi tende ad accumulare sporco cioè non si lava bene secondo me è proprio il finish del materiale che è fatto in questo modo comunque non mi piace per niente poi ha questo coprispazzola che serve per proteggerla però è bugata proprio per far sì che si asciughi comunque e poi vabbè ha un astuccio in cui si mette però quello è più da viaggio non è che in casa lo mettiamo nell'astuccio che poi comunque non manco lo fa stare in piedi appunto come vi dicevo ma comunque deve stare steso e quindi ragazze le pecchie adesso ho fatto un parla parla generale però fondamentalmente facendo un po' di ordine parlo del fatto che preferisco questo a questo della Clarisonic perché parliamo di un prodotto che costa meno della metà che però già partendo dall'estetica si mantiene bene non si scolorisce la scritta quindi non appare un oggetto così rovinato maltrattato poi ha questo che secondo me utilissimo e me lo fa tenere in piedi poi non si sporca cioè lo sporco si toglie subito anche se si sporca leggermente così si toglie subito basta strofinarlo un po' invece questo sono dovuta stare a lavarlo un sacco di tempo perché mia sorella non riusciva a togliere lo sporco doveva fare proprio una spazzolina specifica e poi un'altra cosa importante pure la spazzola cioè parliamo di ecco qua già si vede penso dal video non so se si riesce a vedere comunque la mia che è più di tre anni io poi non l'ho cambiata queste invece si cambiano si comprano a parte questa si sporca e lo sporco non se ne è più andato via cioè è rimasta grigiastra invece la mia ogni volta quando la vado a sciacquare dopo aver essermi lavata la faccia comunque questa ritorna comunque pulita non sarà come quando l'ho comprata ma è pulita quindi ho trovato tanti svantaggi tante cose a sfavore del Clarisonic che mi è sembrato molto molto strano proprio per questo prezzo alto quindi ragazzi vi ho voluto fare questa recensione proprio per promuovervi un prodotto che sta molto di meno che è validissimo e che vi straconsiglio poi parlando proprio del prodotto che potete trovare di altre marche eccetera io altre marche non ne ho provate ho provato soltanto questi due e vi posso dire che ne vale la pena per la spesa perché a parte che vi dura tanto poi veramente fa il suo lavoro non è una stupidaggine cioè veramente quando vi struccate potete andare a vedere il risultato e potete andare a vedere la pelle che respira veramente ma proprio un fattore visivo lo vedete subito perché quando io mi vado a struccare dopo essermi struccata perfettamente mi passo ancora il pad in faccia e non c'è niente sopra cioè risulto pulitissima mi vado a passare questo e le sedo escono ancora marroni di fondotinta cioè anche se avevo pochissimo prodotto in faccia quando me lo sono tolto è uscito pochissimo quando me lo vado a togliere con questo veramente c'è ancora roba nei pori praticamente quindi lo trovo un prodotto validissimo e importante per la skin care soprattutto per le pelli sensibili che magari tendono ad accumulare sporco nei poli un po' dilatati e così via un'ultima differenza è anche la carica per quanto riguarda questo abbiamo la carica con la calamita in corrente mentre per quanto riguarda il mio abbiamo le batterie ragazzi vi dico che questa cosa l'avevo sentita già quando l'ho acquistata in una recensione ed è verissima l'ho avuto modo di vederla anch'io questa cosa di costatarla cioè che praticamente le pile io ce le ho da quando l'ho comprato e non si sono ancora scaricate quindi veramente uno magari all'inizio quando l'ho comprato uno può pensare eh vabbè ma adesso le pile ogni volta devo cambiare le pile si scaricherà sempre rimarrò senza ragazze no assolutamente cioè vi dura una vita io non so quando si scaricheranno però c'è tre anni lo utilizzo ogni volta che mi mi vado a struccare la mattina anche se certe volte mi sento il viso un po' sporco così magari un po' più grasso lo vado a passare quindi veramente l'ho utilizzato e vi dura una vita infatti anche anche se ha le pile cioè la pila le pile durano parecchio io ve lo straconsiglio ve lo straconsiglio come prodotto poi a seconda di quello che volete comprare insomma dovete decidere voi però vi posso assicurare che la validità di questo non so se poi è pari a questo perché poi non è che io non sono una specialista nel settore cioè non è che ho il posto di ragazza e ve lo garantisco però io vi dico secondo il mio opinione nel mio parere quello che ho potuto costatare a vedere eccetera vi posso dire che io ricomprerei questo e non questo insomma ragazzi questa era un'arrigione che spero possa esservi utile anche perché spesso e volentieri mi capita di parlare con qualcuno magari vengono a casa a prendere le mie amiche che l'altra sera sono venute a casa le saluto Fabiana, Federica e la mia amica Federica sono circondata da Federiche e comunque mi hanno detto ma quello lì è il creare sonic eccetera quindi magari qualcuno non sa indeciso vuole saperne di più io ho fatto questa recensione proprio per consigliarvelo e per dirvi che se siete indecise è meglio che lo acquistiate perché veramente fa la differenza io vi ringrazio per aver guardato questo video spero che vi sia stato utile anche se ho parlato un sacco spero che abbiate capito i punti principali e al prossimo video ciao ragazze grazie a tutti Grazie a tutti